Noi siamo mascheri le mati. Io l'ho letto naturalmente non mi è piaciuto. Questa frittella. Immancabilmente in curva io volevo via da là. E arrivavamo a casa prendevamo sempre una fila di legnate perché. Ma no cara guarda lascia stare. Miracolo. Lei ha notato che in questi cento anni. Che dire un terrù. Perché la gente del posto faceva il mercato nero. Una volta c'è ogni tram con dietro un balconcino. I ragazzini degli operai come facevano a avere la bicicletta? Era tanto che avesse avuto il loro papà. Il milanese proprio di Porta Cicca diciamo.